Un bene consiglio comandale, chiedo un attimo di attenzione, cosa fai adesso andando vicino al naso, al naso, consigliere Capaz, stiamo facendo anche una ripresa is the visit. Ho detto che ho dichiarato in questa fine di dare un contributo a questa menza assurda, nella massima trasparenza, nella massima lealtà, non facendo accordi sotto quanto, come sono stati fatti per 20 anni, 30 anni a questa parte. Ho dichiarato che sto a proposizione, rimango a proposizione, però quello che ho detto qualche tempo fa, l'ho detto nel mese di dicembre, in un incontro con un gruppo di amici. Ogni quattro volte che questa amministrazione, volte in questo Consiglio Comunale, atti, che vanno nel interesse di questa città, io sono pronti a sostenere contro il proprio partito a Napoli, contro la Sardegna e l'altro fai domani. Perché se poi, al di là di quest'anno, ognuno di noi si vuole sentire la bocca, in un momento di difficoltà, che dobbiamo far dire, dobbiamo dare promozione a Cazò, dobbiamo dare risposte alle imprenditori, dobbiamo dare risposte alle facce debole, poi queste cose non le mettiamo neanche, rimangono solo delle parole. Penso che nel bene e nel male, tutti quanti noi sappiamo dire tante belle cose. Ma poi, quando è che deve stare in atto? Io credo che tra di noi, tra le quali giorni, esiste la contribuzione in quei giorni, in quei mesi particolari, ma poi, veramente, veramente, un minuto dopo, chiusa la campagna elettorale, di bellamente, di amore, di sostenere questo paese d'Italia, di verità e di praticatoria, che esistono, che esistono un momento di difficoltà. Tutti quanti assieme lo dobbiamo dimostrarci, altrimenti mandano tre valori. Già quando ci stiamo con questo conciclo comunale, ci siamo tutti quanti salvati, ci hanno detto che non è più vero, siamo bravi a dire cugina. Allora, io dico, usciamo pure da queste lezioni eroci, perché se rimaniamo uniti, se ci sta qualcuno che marcia, se siamo bravi noi a convinti di questa persona, questo potuto, questo partito, che non strantando negli interessi necessari, o strantando negli interessi propri, e questo, il nostro ruolo è quello, e quello là, di cercare poi di recuperare, e aggiunto un'altra cosa, io sono stato uno, che ho sostenuto caldo nel momento dedicato all'administrazione calda, ma lo soffroni, in qualsiasi momento, posso avere scrittura che questa amministrazione, il sindaco, vanno negli interessi personali, ma non per i che esiste questa città, io sono pronto, sono pronto, sono una che si manda a rispedire, a rispedire questa amministrazione, e ci può regalare a questa città. è un appello che faccio a tutti quanti io, vi sono in una posizione, dove io mi ritengo di far parte, vi chiedo, quanto e dove sono stato convocato, per qualche riunione che voi avete fatto di maggioranza, di opposizione, e poi vi chiede, scusate, e vi spiego a quale riunione di maggioranza io sono stato prevedo. Allora, io sono pronto, sono pronto, a sostenere, ci porta in diego, in questa amministrazione. per quanto riguarda l'appello di all'interno Consiglio Comunale, io mi so conto che il senso responsabile di andare a un'altra questione. Grazie. Grazie.